Parte 5. La ruota della fortuna gira. Cerchio nero. Il suono di dolore. Uno strano nuovo fiore. Contenitori di plastica. Un pugno grosso colpisce. Cittadino del mondo. Carta e colori. 27. Scrosci di pioggia gelida, del colore della nicotina, vorticarono sulle rovine di East Hanover, New Jersey. Sospinti da venti a cento chilometri orari. La tempesta fece crescere ghiaccioli sporchi da soffitti cadenti e muri sgretolati, spezzò alberi senza foglie e lucidò tutte le superfici con ghiaccio contaminato. La casa che offriva riparo a Sorella, Arti Wisco, Beth Phelps, Julia Castillo e Doyle Haaland, tremò sulle sue fondamenta. Per il terzo giorno da quando la tempesta li aveva colpiti, si rannichiarono davanti al fuoco, che ardeva e saltava mentre il vento entrava dalla canna fumaria. Quasi tutti i mobili erano spariti, spezzati e dati alle fiamme, per avere in cambio il calore sostentatore. Ogni tanto sentivano le pareti scricchiolare con un rumore più forte del vento che fischiava, e Sorella trasaliva, pensando che in qualsiasi istante l'intera debole casa sarebbe caduta come fosse di cartone. Ma la piccola bastarda era coriacea e resisteva. Sentirono rumori come di alberi che cadevano, e Sorella si rese conto che dovevano essere i suoni di altre case che andavano in pezzi intorno a loro e che erano spazzate via dalla tempesta. Sorella aveva chiesto a Doyle Haaland di guidarli in preghiera, ma lui l'aveva guardata con occhi rancorosi, ed era strisciato in un angolo per fumare l'ultima sigaretta e fissare cupo il fuoco. Avevano finito il cibo, e non avevano più niente da bere. Beth Phelps aveva iniziato a tossire sangue, e la febbre le faceva scintillare gli occhi. Mentre il fuoco diminuiva, il corpo di Beth diventava più caldo, e che lo ammettessero o meno, gli altri si sedettero più vicini a lei per assorbire il calore. Beth appoggiò la testa alla spalla di Sorella. «Sorella?» disse con voce bassa ed esausta. «Posso... posso tenerlo, per favore?» sapeva di cosa stava parlando. La cosa di vetro. La tirò fuori dalla borsa, e i gioielli brillarono nella debole luce aranciona. Sorella guardò nelle sue profondità per alcuni secondi, ricordando la sua esperienza di aver camminato nel sogno attraverso un campo distrutto, disseminato di stocchi di gran turco bruciati. Era sembrato così reale. «Cos'è questa cosa?» si chiese. «E perché ce l'ho io?» Mise l'anello di vetro nelle mani di Beth. Gli altri stavano guardando, con il riflesso dei gioielli che splendeva sui loro volti, come luci arcobaleno di un lontano paradiso. Beth lo strinse a sé. Fissò l'anello e sussurrò. «Ho sete. Ho così tanta, tanta sete». Poi restò in silenzio, tenendo il vetro e fissandolo, con i colori che pulsavano lentamente. «Non è rimasto nulla da bere», rispose sorella. «Mi tempesta fece tremare la casa per qualche secondo. Sorella percepì che qualcuno la guardava intensamente e girò lo sguardo verso Doyle Holland. Sedeva a poca distanza, con le gambe distese verso il fuoco, e la scheggia che gli attraversava la gamba rifletteva bagliori di luce. «Quella dovrai toglierla presto o tardi», gli disse. «Hai mai sentito parlare di Cancrena?» «Resisterà», disse lui, e la sua attenzione scivolò sul cerchio di vetro. «Oh», sussurrò Beth trassognata. Il suo corpo tremò e poi disse. «L'avete visto? Era lì. L'avete visto?» «Visto cosa?», chiese Artie. «Il ruscello che scorreva tra le mie dita. Avevo sete e ho bevuto. Nessuno l'ha visto». «La febbre la fa delirare», pensò sorella. «O forse, forse anche lei aveva camminato nel sogno». «Ci ho immerso le mani», continuò Beth. «Ed era così fresco, così fresco. Oh, dentro quel vetro c'è un posto bellissimo». «Mio Dio», disse Artie di colpo. «Sentite, io non ho detto niente prima perché ho pensato che stavo perdendo la testa, ma...» Guardò tutti loro e alla fine si fermò su sorella. «Voglio raccontarvi di una cosa che ho visto io quando ho guardato quella cosa», raccontò loro del picnic con sua moglie. «Era strano. Voglio dire, era così reale che sentivo il sapore di quello che avevo mangiato anche dopo essere tornato. Il mio stomaco era pieno e non avevo più fame». Sorella Annui, ascoltando con attenzione. «Bene», disse. «Lasciate che vi racconti dove sono andata io quando ci ho guardato dentro». Quando ebbe finito, gli altri restarono in silenzio. Julia Castillo stava guardando sorella, con la testa inclinata su un lato. Non riusciva a capire una parola di quello che si stava dicendo, ma vide che tutti guardavano la cosa di vetro e sapeva di cosa stavano discutendo. «Anche la mia esperienza è stata molto reale», continuò sorella. «Non so cosa significhi. molto probabilmente non significa niente. Forse è solo un'immagine che è venuta fuori dalla mia mente, non lo so». «Il ruscello è reale», disse Beth. «So che lo è. Posso toccarlo e posso berne». «Quel cibo mi ha riempito lo stomaco», disse loro Arti. «Mi ha fatto sentire sazio per un figlio. E per quanto riguarda il fatto di parlare con lei, con quella cosa», indicò Julia. «Voglio dire, è dannatamente strano, no?» «Questa è una cosa molto speciale. So che lo è. Ti dà quello che vuoi quando ne hai bisogno. Forse è...» Beth si tirò su e guardò dritto negli occhi di sorella. Quest'ultima percepiva la febbre emanare dall'altra inondate. «Forse è magico. Un tipo di magia che non è mai esistito prima. Forse... forse l'esplosione l'ha reso magico. Qualcosa con le radiazioni o qual...» Doyle Holland rise. Saltarono tutti, sorpresi dalla durezza di quella risata, e lo guardavano. Lui ghignava alla luce del fuoco. «Questa è la cosa più folle che abbia mai sentito in tutta la mia vita, gente. Magia! Forse l'esplosione l'ha reso magico.» Scosse la testa. «Andiamo. È solo un pezzo di vetro con dei gioielli conficcati dentro. Sì, è bello, d'accordo. Magari è sensibile, come un diapason o qualcosa del genere. Ma secondo me vi ipnotizza. Secondo me i colori fanno qualcosa alla vostra mente. Forse susciterò le immagini nella vostra immaginazione. E voi pensate che state mangiando a un picnic, che state bevendo da un ruscello o che camminate su un campo bruciato.» «E che mi dici di me che comprendo lo spagnolo e di lei che comprende l'inglese?» gli chiese sorella. «È una gran bella ipnosi, vero?» «Hai mai sentito parlare di ipnosi di massa?» chiese lui enfaticamente. «Questa cosa è come le statue che sanguinano, le visioni e la fede che cura. Tutti vogliono credere e quindi si avvera. Sentite, lo so. Ho visto una porta di legno su cui cento persone giuravano di aver visto un'immagine di Gesù nella grana. Ho visto il vetro di una finestra che un intero isolato vede come un'immagine della Vergine Maria. E sapete cos'era? Un errore, un'imperfezione del vetro, tutto qua. Non c'è nulla di magico in un errore. La gente vede quello che vuole vedere e sente quello che vuole sentire.» «Tu non vuoi crederci», ribatte Arti con tono di sfida. «Perché? Hai paura? No, sono solo realista. Penso che invece di discutere per un rifiuto dovremmo trovare dell'altra legna per quel fuoco prima che si spenga.» Sorella guardò il fuoco. Le fiamme stavano consumando il resto di una sedia rotta. Riprese gentilmente l'anello di vetro da Beth. Era caldo, a causa delle mani dell'altra donna. Forse i colori e il pulsare suscitavano immagini nella mente, pensò. Di colpo si ricordò di un oggetto di un'infanzia lontana. Una sfera di vetro piena di inchiostro nero che assomigliava alla palla otto del biliardo. Si doveva esprimere un desiderio, pensarci molto intensamente e poi capovolgere la sfera. Sul fondo della sfera compariva un piccolo poliedro bianco con diverse scritte su ogni lato come «il tuo desiderio sarà esaudito, è una certezza, sembra dubbio» e l'irritante «chiedilo di nuovo più tardi». Erano risposte generiche alle domande di una bambina che voleva disperatamente credere nella magia. Quelle risposte si potevano interpretare in qualsiasi modo. E forse era questo che era anche l'oggetto di vetro. Una criptica palla otto che ti faceva vedere quello che volevi vedere. Eppure, pensò, non aveva alcun desiderio di camminare in un sogno su una prateria bruciata. L'immagine era apparsa e l'aveva trascinata. Quindi cos'era questa cosa? Una criptica palla otto o un portale verso i sogni? Cibo e acqua onirici potevano essere abbastanza per calmare il desiderio di essi, sorella lo sapeva, ma avevano bisogno delle cose reali e di legna per quel fuoco. E l'unico posto dove trovare qualsiasi cosa era all'esterno, in una delle altre case. Rimise la cosa di vetro nella borsa. Io devo andare fuori, disse. Forse riesco a trovare del cibo e qualcosa da bere nella casa accanto. Artie, tu vieni con me? Puoi aiutarmi a rompere una sedia o qualsiasi altra cosa per dell'altra legna. Sei d'accordo? Lui annui. Va bene, non ho paura di un po' di vento e pioggia. Sorella guardò verso Doyle Haaland. L'uomo distolse frettolosamente lo sguardo dalla borsa Gucci. E tu? Verrai con noi? Haaland si strinse nelle spalle. Perché no? Se voi andate in una direzione, io dovrei andare nell'altra. Posso cercare nella casa sulla destra, se voi andate in quella sulla sinistra. Giusto. Ottima idea. Sorella si alzò. Dobbiamo trovare delle lenzuola in cui avvolgere il cibo e l'altra roba, per poterli trasportare. Credo che saremo più al sicuro se strisceremo, invece di camminare. Se restiamo vicini al suolo, forse il vento non sarà così forte. Artie e Haaland trovarono delle lenzuola e le strinsero sotto le braccia per impedire che si aprissero come dei paracadute nel vento. Sorella mise Beth comoda e indicò a Julia di restare con lei. State attenti, disse Beth. Sembra che non sia troppo bello là fuori. Torneremo, promise sorella. E attraversò la stanza, dirigendosi alla porta d'ingresso, che era più o meno l'unica cosa di legno che non era finita nel fuoco. Spinse la porta e immediatamente la stanza si riempì di vento gelido e vorticante e di pioggia ghiacciata. Sorella cadde in ginocchio e strisciò sul portico scivoloso, tenendo stretta la borsa di pelle. La luce all'esterno era del colore della terra di cimitero e le case colpite dal vento intorno a loro erano storte come lapidi trascurate. Seguita da vicino da Artie, sorella iniziò lentamente a strisciare sui gradini per scendere sul prato congelato. Si guardò indietro, stringendo gli occhi contro le pungenti frustate del ghiaccio, e vide Doyle Halland avanzare poco alla volta verso la casa sulla destra, trascinando con attenzione la gamba ferita dietro di sé. Impiegarono quasi dieci geli di minuti per raggiungere la casa accanto. Il tetto era stato quasi strappato via e il ghiaccio rivestiva ogni cosa. Artie si mise al lavoro, trovando una fessura in cui legare il lenzuolo come un sacco e raccogliendo le schegge di legno disseminate ovunque. Tra i resti della cucina, sorella scivolò sul ghiaccio e cadde duramente sul sedere, ma trovò dei barattoli di verdure nella dispensa, mele, cipolle e patate congelate, e nel frigorifero trovò dei cibi precotti, duri come la pietra. Tutto ciò che poteva essere infilato nella sua borsa vi finì dentro, e a quel punto le sue mani erano diventate dei rigidi artigli. Trascinando il suo carico di bottino, trovò Artie con un lenzuolo pieno di pezzi di legno. «Sei pronto?» urlò contro il vento, e lui annui per confermare che lo era. Il viaggio di ritorno fu più insidioso, perché stavano tenendo così strettamente i loro tesori. Il vento li colpiva anche se strisciavano sulla pancia, e sorella pensò che se non fosse arrivata presto davanti a un fuoco, le mani e la faccia le sarebbero cadute. Coprirono lentamente la distanza tra le due case. Non c'era segno di Doyle Halland, e sorella sapeva che se fosse caduto e si fosse ferito, avrebbe potuto congelare a morte. Se non fosse tornato entro cinque minuti, sarebbe dovuto andare a cercarlo. Strisciarono sui gradini coperti di ghiaccio, fino al portico, e attraverso la porta, entrando nel calore benedetto. Quando anche Artie fu dentro, sorella chiuse la porta e la chiusa chiave. All'esterno il vento batteva e ululava, come qualcosa di mostruoso a cui erano stati portati via i suoi giocattoli. Uno strato di ghiaccio aveva iniziato a sciogliersi sul volto di sorella, e dai lobi delle orecchie di Artie pendevano piccoli ghiaccioli. «Ce l'abbiamo fatta!» La mascella di Artie era rigida per il freddo. «Abbiamo delle...» smise di parlare. Stava fissando oltre sorella, e i suoi occhi, con le ciglia ghiacciate, si stavano spalancando con orrore. Sorella si voltò di scatto, si congelò, più di quanto lo era stata nella tempesta. Beth Phelps giaceva sulla schiena davanti al fuoco tremolante. I suoi occhi erano aperti, e intorno alla sua testa si stava allargando una puzza di sangue. C'era una ferita orribile sulla sua tempia, come se le fosse stato infilato un coltello nel cervello. Una mano era alzata, congelata nell'aria. «Oh, Gesù!» Artie si premette la mano sulla bocca. In un angolo della stanza, Puglia Castiglio giaceva raggomitolata e contorta. In mezzo ai suoi occhi vitrei c'era una ferita simile, e il sangue era schizzato sulla parete dietro di lei, come un ventaglio cinese. Sorella strinse i denti per soffocare un urlo. Poi una figura si mosse, in un angolo dall'altro lato del lieve bagliore del fuoco. «Entrate», disse Doyle Haaland. «Scusate per il disordine». Si ergeva in tutta la sua altezza, con gli occhi che catturavano la luce arancione come le pupille riflettenti di un gatto. «Avete trovato le vostre prelibattezze, vero?» La sua voce era sonnolenta, come quella di un uomo che si era rimpinzato a cena, ma che non poteva rifiutare il dolce. «Anch'io ho avuto le mie». «Mio Dio! Mio Dio, che è successo qua?» Arti si tenne al braccio di Sorella per sorreggersi. Doyle Haaland alzò un dito e lo diresse lentamente verso la donna. «Mi ricordo di te», disse Piano. «Tu sei la donna che è entrata nel cinema. La donna con la collana. Vedi, ho incontrato un tuo amico di là, e la città. Era un poliziotto. Mi sono imbattuto in lui mentre passeggiavo». Sorella vide i suoi denti scintillare quando sorrise e le sue ginocchia quasi cedettero. «Abbiamo fatto una bella chiacchierata». Jack Tomacek. Jack Tomacek non era riuscito ad attraversare l'Olan Tunnel. Era tornato indietro e da qualche parte nelle rovine si era trovato faccia con...» «Mi ha detto che degli altri erano fuggiti», continuò Doyle Haaland. «Ha detto che uno di loro era una donna. E sai quale era la cosa che ricordava di più di lei? Che sul collo aveva una ferita a forma di...» «Beh, hai capito. Mi ha detto che la donna stava guidando un gruppo di persone verso ovest». La sua mano con il dito teso si mosse a destra e sinistra. «Cattiva, cattiva. Non è corretto sgattaiolare via quando ti sto voltando la schiena». «Le hai uccise». La sua voce tremò. «Le ho liberate. Una di loro stava morendo e l'altra era mezza morta. Che speranze avevano ancora. Voglio dire seriamente. Tu mi hai seguita. Perché?» «Sei sopravvissuta. Stavi portando via degli altri. Nemmeno questo è molto corretto. Devi lasciare i morti dove cadono. Ma sono contento di averti seguita, perché tu hai qualcosa che mi interessa molto». Il suo dito indicò il pavimento. «Puoi metterlo ai miei piedi adesso». «Che cosa?» «Tu sai cosa». «Quella». «La cosa di vetro. Andiamo, non fare scenate». Restò in attesa. Sorella si rese conto che non si era accorta della sua traccia di gelo, come era accaduto sulla quarantaduesima strada e nel cinema. Perché ogni cosa era gelida. E adesso eccolo lì, chiedendole l'unica cosa bella che restava. «Come mi hai trovata?» gli chiese, tentando disperatamente di pensare a una via d'uscita. Oltre la porta legata dietro di lei, il vento era tagliente e urlante. «Sapevo che se avessi superato l'Holland Tunnel, poi avresti dovuto attraversare Jersey City. Ho seguito il sentiero con minora resistenza e ho visto il tuo fuoco. Sono rimasto ad ascoltarti e a osservare. Poi ho trovato un pezzo di vetro colorato e mi sono reso conto di cosa fosse stato quel posto. Ho trovato anche un corpo e gli ho preso gli abiti. Posso farmi stare bene ogni taglia, vedi?» Le sue spalle all'improvviso si gonfiarono di muscoli e la sua spina dorsale si allungò. La giacca del prete si aprì lungo le cuciture. Adesso era di cinque centimetri più alto di un secondo prima. Arti gemette, scuotendo la testa da parte a parte. «Io non... io non capisco!» «Tu non devi capire, verme. È una cosa tra la signora e me.» «Che cosa sei tu?» Sorella resistette all'impulso di ritrarsi da lui, perché temeva che un passo indietro lo avrebbe fatto avventare su di lei come un vortice oscuro. «Io sono il vincitore», disse lui. «E sai una cosa? Non ho nemmeno dovuto sudare. Mi sono solo rilassato e tutto è arrivato da solo.» Il suo ghigno diventò selvaggio. «È l'ora della festa, signora, e la mia festa continuerà per molto, molto tempo.» Sorella fece un passo indietro. La cosa che era Doyle Holland scivolò in avanti. «Quel cerchio di vetro è bello. Sai cos'è?» Lei scosse la testa. «Nemmeno io. Ma so che non mi piace. Perché? Cos'è per te?» Lui si fermò e i suoi occhi si strinsero. «È pericoloso. Per te intendo. Ti offre false speranze. Ho ascoltato tutte quelle tue stronzate sulla bellezza e la speranza e la sabbia qualche notte fa. Ho dovuto mordermi la lingua o ti avrei viso in faccia. Ora dimmi che non credi davvero a quelle cose e fammi felice.» «Sì», disse sorella con fermezza. La sua voce tremò solo un po'. «Io ci credo.» Era quello che temevo.» Continuando a ghignare, abbassò la mano sulla scheggia di metallo nella sua gamba. La sua punta era macchiata di sangue. Iniziò a estrarla. E sorella comprese cosa aveva causato quelle ferite. Estrasse il pugnale e si raddrizzò. La sua gamba non sanguinava. «Portamelo», disse lui, con una voce morbida come velluto nero. Il corpo di sorella sussultò. La forza di volontà sembrava fluire da lei, come se la sua anima fosse diventata un setaccio. Sentendosi confusa e fluttuante, lei voleva andare da lui. Voleva mettere la mano nella borsa e tirarne fuori il cerchio di vetro. Voleva metterglielo in mano e offrire la gola al pugnale. Sarebbe stata la cosa più facile da fare. E qualsiasi resistenza sembrava incredibilmente e insopportabilmente difficile. Tremando, con gli occhi spalancati e umidi, sorella infilò la mano nella borsa, oltre i barattoli e i cibi precotti congelati, e toccò il cerchio. La luce bianca dei diamanti esplose sotto le sue dita. Il suo bagliore la fece tornare in sé e la forza di volontà tornava alla sua mente. Irrigidì le gambe, come se le volesse incollare al pavimento. «Vieni da papà», disse lui. Ma nella sua voce c'era una dura nota di tensione. Non era abituato a essere disubbidito e poteva percepire che lei gli stava resistendo. Lei era molto più forte del ragazzo nel cinema, che aveva resistito più o meno come un marshmallow davanti a una elettrica. Lui era in grado di guardare in profondità nei suoi occhi e vide immagini che saltavano, avvolte nell'ombra. Una luce blu che girava, un'autostrada sotto la pioggia, le figure di donne che scivolavano in corridoi fiocamente illuminati, la sensazione di asfalto ruvido e colpi brutali. Questa donna, rifletté, ha imparato a fare della sofferenza la sua compagna. «Ho detto, portamelo! Subito!» E vinse, dopo qualche altro secondo di lotta. Vinse, come sapeva che sarebbe accaduto. Sorella tentò di impedire alle sue gambe di muoversi in avanti, ma quelle continuarono, come se avessero potuto spezzarsi alle ginocchia e proseguire senza il suo torace. La voce dell'altro le accarezzava i sensi, attirandola costantemente in avanti. «Ecco così! Vieni avanti! Portalo qui!» «Brava ragazza!» le disse, quando fu a meno di mezzo metro. Dietro di lei, Arti Wisco tentava ancora di farsi piccolo accanto alla porta. La cosa che era Doyle Holland allungò lentamente una mano per prendere il cerchio di vetro splendente. La sua mano fece una pausa, a pochi centimetri di distanza. I gioielli pulsavano rapidamente. Lui inclinò la testa da un lato. Una cosa del genere. Non doveva esistere. Si sarebbe sentito molto meglio dopo averla frantumata sotto la scarpa. Gliela strappò dalle dita. «Grazie», sussurrò. L'anello di vetro cambiò. Accadde in un istante. Le luci dell'arcobaleno sbiadirono e diventarono torbide e brutte, marroni come il fango di palude, grigie come il pus e nere come il carbone. Il cerchio di vetro non pulsava. Era morto nella sua presa. «Merda», disse lui, sbalordito e confuso, e uno dei suoi occhi grigi diventò azzurro pallido. Sorella sbatté le palpebre e sentì brividi di freddo scorrerle lungo la spina dorsale. Il sangue tornò a formicolare nelle sue gambe. Il suo cuore si sforzava come una macchina che ha difficoltà ad accendersi dopo una notte passata al gelo. L'attenzione dell'altro era diretta al cerchio nero e lei sapeva che aveva solo uno o due secondi per salvarsi la vita. Sorella puntò le gambe e mosse la borsa di pelle proprio contro il lato del cranio dell'altro. La sua testa scattò in alto e le labbra si deformarono in una smorfia. Aveva iniziato a spostarsi di lato, ma la borsa Gucci, piena di barattoli e cibo congelato, lo colpì con ogni grammo di forza che sorella riuscì a raccogliere. Lei si aspettava che avrebbe assorbito il colpo come un muro di pietra e che si sarebbe messo a urlare con furia infernale, per cui fu sorpresa quando lui grugnì e barcollò indietro contro la parete, come se le sue ossa fossero fatte di cartapesta. La mano libera della donna scattò e afferrò l'anello e lo tennero entrambi in mezzo a loro. Qualcosa di simile a una scossa elettrica le attraversò il braccio ed ebbe la visione mentale di un volto costellato di cento nasi, bocche e occhi che si muovevano di tutte le formi e di tutti i colori. Pensò che doveva essere la sua vera faccia, una faccia di maschere e cambiamenti, trucchi e cattiveria camaleontica. La sua metà del cerchio esplose di luce, anche più forte di prima, l'altra metà, nella stretta di lui, restava nera e fredda. Sorella glielo strappò di mano e il resto dell'anello si accese di fuoco incandescente. Vide la cosa che era Doyle Halland strizzare gli occhi per il suo bagliore e mettersi una mano sul volto per evitare la luce. Il battito del suo cuore faceva pulsare l'anello furiosamente e la creatura davanti a lei si ritraeva da quella luce ardente come se fosse stupita sia dalla forza dell'oggetto che da quella della donna. Sorella vide qualcosa nei suoi occhi che avrebbe potuto essere paura. Ma restò lì per un solo istante, perché improvvisamente i suoi occhi furono risucchiati dentro cappucci di carne e l'intero volto iniziò a cambiare. Il naso collassò, la bocca scivolò via, un occhio nero si aprì al centro della fronte e uno verde sbatteva la palpebra sulla guancia. Sulla punta del mento si aprì una bocca come quella di uno squalo e all'interno della cavità si vedevano piccole zanne gialle. «Facciamo festa! Stronza!» ululò la bocca e la scheggia di metallo riverberò di luce quando la sollevò sopra la testa per colpire. Il pugnale cadde come una vendetta. Ma la borsa di sorella era come uno scudo e il pugnale vi entrò, ma non riuscì a penetrare una porzione di tacchino congelato. Tentò di afferrarle la gola con l'altra mano e quello che lei fece dopo lo fece con l'esperienza delle tante lotte che aveva affrontato sulla strada. Con il cerchio di vetro lo colpì in volto e conficcò una delle punte nell'occhio nero al centro della sua fronte. Da quella bocca spalancata uscì un grido come di un gatto scuogliato vivo. E la testa della cosa che era Doyle Halland scattò all'indietro così rapidamente che la punta di vetro si spezzò, ancora piena di luce, restando conficcata nell'occhio come la lancia di Ulisse nell'occhio di Polifemo. Lui colpì alla cieca con il pugnale, con l'altro occhio che roteava nella sua orbita e liquidi che colavano dalla carne. «Corri!» gridò sorella ad Arti Wisco e poi si voltò, fuggendo a sua volta. Arti armeggiò con il chiavistello e quasi si portò dietro la porta quando fuggì dalla casa. Il vento lo afferrò e lo fece cadere. Sulla pancia, tenendo ancora stretto il sacco di schegge di legno, scivolò giù dai gradini fino al marciapiede congelato. Sorella lo seguì, perse anche lei l'equilibrio sui gradini e cadde. Spinse l'anello di vetro in fondo alla borsa e strisciò sul ghiaccio, scivolando via dalla casa sulla pancia, come una slitta umana. Arti le strisciò dietro. E alle loro spalle, lacerato dall'urlo del vento, si udì un ruggito impazzito. «Ti troverò! Ti troverò, stronza! Non potrai scappare!» Sorella guardò indietro e lo vide attraverso la tempesta. Stava tentando di togliersi dall'occhio la punta nera e di colpo perse l'equilibrio e cadde sul portico. «Ti troverò!» promise, lottando per rialzarsi. «Non potrai scappare!» Il rumore della tempesta tagliò la sua voce e sorella si rese conto che stava scivolando più velocemente, andando in discesa sul ghiaccio del colore del tè. Davanti a lei incombeva un'auto coperta di ghiaccio. Non c'era modo di evitarla. Lei si appiattì per passarci sotto e qualcosa le strappò la pelliccia mentre sfrecciava sotto l'auto e poi continuò a scivolare in discesa, priva di controllo. Guardò indietro e vide Arti roteare come un piatto, ma la sua rotta lo portava accanto all'auto e lontano dal pericolo. Sfrecciarono giù per la collina. Due slittini umani che passavano su una strada affiancata da case morte e distrutte, con il vento che li spingeva avanti e il nevischio che li pungeva in faccia. «Avrebbero trovato un riparo da qualche parte», pensò sorella. «Forse in un'altra casa. E avevano molto cibo. La legna per accendere un fuoco. Non avevano fiammiferi o un accendino, ma di certo i saccheggiatori o i fuggitivi non avevano portato via tutto quello che poteva generare una scintilla. Aveva ancora l'anello di vetro. La cosa che era Doyle Halland aveva ragione. Era una speranza. E lei non l'avrebbe mai lasciata andare. Mai. Ma era anche qualcos'altro. Qualcosa di speciale. Qualcosa, come aveva detto Beth Phelps, di magico. Ma ancora non riusciva a immaginare quale fosse lo scopo di quella magia. Sarebbero sopravvissuti e stavano scivolando sempre più lontani dal mostro che indossava l'abito di un sacerdote. «Ti troverò!» lo sentì urlare nella sua mente. «Ti troverò!» E lei temeva che un giorno, in qualche modo, sarebbe accaduto. scivolarono per il resto della collina, superando altre auto abbandonate, e continuarono sulla strada per un'altra quarantina di metri, prima di colpire il marciapiede. La loro discesa era finita. Ma il loro viaggio era appena iniziato.